Cazzo qualcuno mi aiuti! Non, non, non! Grazie a tutti. Abbiamo preso degli esclasivi. Attenzione! Un roviti infatto è armato. Sì! Sì! Da questa parte! Ah, che mamma! Obiettivo Anton è stato distrutto. Ottimo lavoro. L'hovo! L'hovo la parte! Doi! P�olci! aiuto il il soldato in e e e e Sì, hai spiegato? Dio che non c'è il gioco, non c'è il gioco! Sì, è un granato, come un'altra, l'américa, partì! La forra è eccellente, l'obiettivo d'ora è stato distrutto. Atenzione, che non vedete l'ultimo obiettivo. Arrivano altri aerei, porteranno rinforzi. Grazie a voi. Ecco qualche proiettivo. A posto. Faccia attenzione, la giù. Aiutatemi! E te li hazzena più! Abonteri! Aiuto! Avanzi! Garika! Abonteri! Arrivano altri, patrotti! Avanti, Garika! Arrivano! Ho finito le munizioni, aiuto! Padre, aiutami! Attenzione, l'obiettivo Cesar è stato disarmato. Perdiamo l'obiettivo Eibol. Abbiamo perso l'obiettivo! Oh, cazzo! Aiutatevi! Ehi, cazzo! Venga a lui che è te! I ranghi nemici si sono assottigliati. Avanti, cazzo! Sì! Venga! 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 Abbiamo perso l'obiettivo Major. Venga! 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 Venga il sangue eliminato! Venga la scena! Venga! 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 Venga la giudizia! Venga la giudizia! Venga la giudizia! Venga la giudizia! Oh ora si muoversi, difendete l'obiettivo esplosivi pronto fanno fattonale abbiamo perso l'obiettivo attenzione, l'attività sessore perduto, ritirata abbiamo eliminato vittà dei nemici attenzione attenzione capitanale eliminato attenzione 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 Grazie a tutti.